gli avevo chiesto di lasciare 50 mi piace ma voi ne avete lasciati 65 adesso so 66 con il mio grazie a startide visto che c'è stato impegno da parte vostra io inserirò due nomi faccio lo spoiler in questo momento degli iscritti che ho pescato appunto da questi 68 commenti girando la ruota arriviamo di nuovo a 50 mi piace e inserirò di nuovo altri due nomi degli iscritti nel prossimo video come vedete mantengo le promesse ragazzi un saluto a vostra startide e benvenuti su ai dei so che questo video era molto atteso perché avevo detto che dovevamo scegliere il nome di un iscritto da inserire sugli animali ora se magari tu mi fai iniziare la partita finalmente grazie per il giornaletto che succede niente quello con la tromba e la gallina accanto allora c'è tanto tanto da fare proprio immensamente i cani stanno a morire non fateci caso tanto ora ci diamo da mangiare basta che prendiamo un po' di pancette e li facciamo resuscitare non vi preoccupate che poi in realtà stanno dormendo non stanno morando vuoi che muoro? vuoi che muoro? a posto meno male io ho cercato di fischiare però mi ha fischiato solo la lingua ah sto vedendo che c'è anche un regalino va bene ringrazio il postino che ci regala le robe devo andare ad aumentare il granaio devo ritirare le tre assi perché se vedete ecco dove sono le tre assi me le sono fatte donare dal club io ringrazio tanto i ragazzi ringrazio tantissimo Flo che mi dona spesso anche lei aumenta capacità e finalmente avremo tantissimo spazio ho fatto un calcolo dovrebbe essere sui 150 spazi andiamo avanti allora questo pure ce lo siamo fatti dobbiamo andare anche a liberare un po' di terreno ecco mi sono fatto dare da Lilith un mazzuolo perché mi mancava un mazzuolo e tre paletti ringrazio anche Lilith mettiamo pure questo ce lo possiamo pure ad aprire togliamo l'alberello togliamo l'alberello più piccolo il figliolo togliamo questo e togliamo pure quello che tanto non me ne faccio niente anzi è anche una scusa per usare le accette e le asce che non so più dove metterle facendo queste quattro cavolate che belline le farfalline abbiamo liberato esattamente dovrebbe essere sulle 150 perché 150 più 200 sono 300 vabbè ok avete capito che ha funzionato tutto va bene il regalino non ho idea perché non ho chiesto neanche a Lilith il team dei dei mi regala 10 cosa sono i bigliettini perché non mi ricordo i nomi vabbè dovrebbero essere i bigliettini ne ho un botto i buoni scusate i buoni del conad ok giriamoci la ruota della sfiga del furgoncino furgoncino rip che ogni volta mi da sempre cacca e non mi da mai niente dammi qualcosa di bello da vero certo perché darmi 5 succhi te faceva schifo proprio le uova mi hai dato da tirarmi in faccia ho un sacco di buoni però prima devo vedere dov'è che si trova qua l'affare dei gatti no il bracco che costa lira di dio non è il caso devo inserire i gatti però ancora prima dovrei mettere le loro casette che si trovano qui mettiamocene anche un'altra ritiriamoci i due gattini spero di riuscirci perché comunque ho visto che c'è un botto di buoni uno guarda che bellino no vizza manco il tempo e già sta male oh il gatto farlocco ci ho preso amici per la pelle grazie molto gentile dovrebbe essere sì questo appunto guarda che bellini bravi così se magna crescete grandi e grossi tigri tigri vabbè ora sì che sono felici no le rene non si toccano quelle di là io me le sto collezionando non fateci caso ci siamo sì il porcile che dovrebbe essere questo sì c'era anche da inserire aspetta ma dove li ho messi io là i porcellini di là allora facciamolo mettiamolo assieme non ha senso altrimenti Lilith poi si sente da sola ultimamente mi ha sbloccato anche il recinto delle capre capra capra ignorante capra e dov'è dove sono riuscite le capre mettiamocelo qui mi ha detto Lilith Asta se metti le capre costano lira di dio sappilo va bene vediamo testiamo dove sono le capre porca manueel 2150 ma stanno scherzando ma quanto so belle ste capre c'hanno pure gli occhiali a cuori ma che c'è salve porcellini 2300 mannaggia miseria altri 5 dovrebbero essere sì buttiamoglielo di qua mettiamoci anche questo qui tutti felici là con gli occhiali dell'evento estivo mettiamoci anche questo patto ok per gli animali penso di essere a posto un altro gattino potrebbe farmi inserire giusto questo di qua me lo potrebbe far mettere visto che costano poco e inserire più animali possibili in modo che possa mettere anche altri nomi degli iscritti prima di farvi vedere la pesca che tanto voi sarete più pro di me vorrei inserire il nome dell'iscritto ora ragazzi che sia una ragazza o un ragazzo ho deciso che il ragazzo farà il cagnolino e la ragazza farà il gattino ok visto che giustamente il gattino è più dovuto alle ragazze va bene maschietti andiamoci a girare la ruota degli iscritti che hanno commentato e lasciato mi piace nel video eccoci qui nella ruota degli iscritti che hanno commentato e lasciato mi piace sono stati inseriti qui a destra come vedete sono una quarantina se non di più di conseguenza sono stati riportati sopra la ruota in modo da poter spinnare e scegliere finalmente in maniera randomica l'iscritto che sarà inserito nel nome di un animale forza dacci l'iscritto meritevole avanti dai quanto ci stai cos'è cos'è tiziana franci franci andrò a inserire il nome di franci su un gattino visto che giustamente franci è una ragazza andiamo a cercare subito un gattino che si sta nascondendo qua franci franci vieni qua che te ferma gatto tigre aspetta franci ok ecco qua io ragazzi ve l'ho sempre detto mantengo le promesse avete lasciato più di 50 mi piace quindi vi ringrazio tantissimo per il supporto e dato che c'è stato impegno da parte vostra inserirò un altro nome di un iscritto così a sorpresa va bene andiamo a girare di nuovo la ruota possiamo togliere francina dalla lista dei commenti perché altrimenti potrebbe togliere il posticino un altro iscritto dai forza col secondo nome vediamo chi sarà il fortunello o fortunella chissà se sei un'altra ragazza non lo so stru chi è? chi è questo? grissina grissina complimenti grissina fermate grissina aspetta che la inserisco eccoci qua complimenti grissina sei stata fortunata maschietti che ce posso fare? oh eccola qui a grissina mi raccomando pure tu grissina non andami a cagare in giro vabbè tanto i gatti sono più puliti fanno la cacca la pipì quello che è e poi la coprono tranne Crash vero? questo è Crash dove? Crash via dalle ciliegie si è Crescino ragazzi arriviamo di nuovo a 50 mi piace e inserirò di nuovo due nomi degli iscritti ci possiamo sbloccare la pesca che appunto ancora ragazzi non ho capito che cosa sia ho visto qualcosina da Lilith che già quella è pescatrice ma proprio pesca i pesci spada quando le frine fanno che meraviglia ma ci picchia non vedevo quella barca va bene non vedevo la nonna da un sacco di tempo cosa devo fare? come pescare? quindi devo prendere le esche e lanciarle lì cioè devo fare ah devo rimanere col dito cliccato e quindi pesce dai forza pesce non farmi fare brutta figura è la prima volta che lo faccio non farmi fare brutta figura no 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 si ok ci siamo riusciti ok il salmone del Danubio molto seghesi questo salmone vediamo se me ne fa trovare un altro diverso mi fa trovare sempre lo stesso ok 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 no 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 dai 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 no 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 ok perfetto meno male che cosa ho preso la carpa ramata c'era quindi pure la carpa dorata e la carpa d'alluminio andiamoci a ritirare le ricompe no mannaggia gli infartini non mi interessa no mi spiace non ce ne è maffini tutti i miei sono buoni mettiamo no si certo paranormal capra no pecore dove state riesco a cliccare è grande enorme come faccio a non poterci cliccare alla sopra non ce ne sono più ricompense no quindi possiamo ritirarci anche questa così ci raccogliamo un po' di diamanti eccoci qui ancora ancora ne voglio ce ne sono più un diamante grazie qua un diamante la ringrazio di nuovo qua non da niente acquista 4 animali domestici ah no li da e perché non c'è scritto vabbè io pure se non c'è scritto anche se me li dai sono ora felice ok un diamante un altro diamante qua non ce lo dice ci da 3 diamanti va bene ce n'è ancora per caso non ce n'è più dai che ci stavi viziando si che ci sono 5 diamanti uiii ricchi siamo altri 5 ma che è sta cosa che saltella ah ci abbiamo preso la coppa ah grazie ah siamo arrivati i secondi va bene non c'è problema questa ci sta dando adesso richiedi ma io sono ricco grazie ragazzuoli per questo video aggiornamento di iday è tutto lasciate mi piace iscrivetevi commentate e condividete in descrizione trovate instagram tiktok e il server ufficiale discord del canale mi trovate ogni giorno in live con brostars stumble guys clash royale e pokemon unite ciao 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 Grazie a tutti.